Ho fatto una scansione per un cliente, mi ha portato una testa e la voleva riprodurre io ho fatto la scansione ed è uscita così, un po' rugosa, un po' rugosa ho provato a stamparla e in effetti in stampa non usciva molto bene allora cosa facciamo in questi casi? i filtri, ok? cioè che cosa fai cliccando a cosa succede alle mesh tipo falle venire fuori, venire molto più fuori, schiacciale e via via vedete questo qua, ammorbidisci, aumenta le mesh, diminuisci le mesh, provateli dopo c'è lo stile del pennello che io lascio quasi sempre a questo, è il colore che non serve facciamo un esempio, vogliamo lisciare e prendiamo questo pennello qua ruotiamo, diamo la dimensione desiderata e passiamolo vedete che dove è rugoso diventa liscio e questo cosa fa? probabilmente pareggia un po' la distanza fra le mesh ovvero le cose rugose ci sono mesh interne e esterne molto distanti mentre con questo oggetto per me le rende allo stesso livello ovvero più liscia e continuare così in modo artistico e pulire probabilmente i cappelli li lascerò così ma qua invece la scolpisco tutta, la liscio vi voglio far vedere l'effetto finito che è questo qua vedete? molto più liscio in effetti in stampa è uscito meglio spero che questo consiglio ti sia stato utile se ti è stato utile condividilo che potrebbe essere utile a qualcun altro alla prossima